la pallina di prima non avevo dubbi ma cosa gli hanno fatto con la bambina qua poverina ragazzi ha tatuato una farfalla noi vediamo in terra tatuate molte di quelle farfalle non voglio parlare è ok quindi vivi qui? non è vero Non mi ricordi quanto abbastanza fa a volte. Posso immaginare. Questo posto dovrebbe essere... Oh sì! È così bello! Ci persone vengono e vengono tutto il tempo! Sempre qualcuno che giocava. Deve essere bello. Era... Non ancora. Oh... Dicci, cosa succede? Ma... Mi ricordo... Ci persone non vengono. Solo alcuni di loro stavano. Ma... Ci sono molto triste. Molto angli. Potremmo te scusare! Grazie. Sì. 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 Sì.